cuori buonasera oggi vi propongo pasta di lagnosi un bicchiere di caffè di vino bianco insaporitori la paprika il surimi sul gelato la cipolla sul gelato il pomodorino spaghetti soffriggiamo la cipolla sul gelato appena appassisce buttiamo il pomodorino cipolla soffritto abbiamo aggiunto il pomodorino tagliato a metà appena appassisce un po che aggiungiamo un po di vino un po di paprika e strulini e la pasta si può dire che è pronta paprika basta insaporitore basta mettiamo il vino però ci mettiamo il sugelato aggiungiamo il condimento è pronta aggiungiamo un po di basilico fresco e fra un po rimettiamo la pasta piccola spaghetti non ne ho caliamo questi tipo figli di telefono 15 metri di cottura io ne faccio cuocere 10 e gli ultimi 5 metri li faccio fare in padella con lo condimento mettiamo la pasta nel condimento dopo 12 minuti di cottura facciamo mantecare 2-3 minuti per fare il coppia di tutto mettici un po di liquido di posto facciamo questa la pasta pronta ora la impiattiamo cuori questo è il piatto finito buon appetito un bacione da palermo attacchiamo un po di sale